Allora, la blockchain decentralizzata, ma scusi, questo lo sanno tutti, è scritto su tutti i giornali, c'è un database organizzato in blocchi che sono leggibili da tutti, tutti possono scrivere un piccolo data in qualche pagina, in qualche blocco, è non alterabile da nessuno, nessuno può alterare il contenuto dei blocchi nell'ordine dei blocchi. E, diciamo, la promessa che questa tecnologia avrà per l'umanità, anzi, più ne ha, più ne dica, più ne ha, perché sono praticamente limitate, chi è che non apprezza l'inalterabilità di una database, chi non apprezza la trasparenza, chi non apprezza la capacità di generare fiducia tra persone che appena si conoscono. Quindi, perché parlarne? Perché ci sono dei ma, e i ma sono praticamente tre domande fondamentali. Questa, a testa e croce, questo registro condiviso, eccetera, ma in realtà come si fa a definirlo? E, avendolo definito, come si fa a implementarlo? E poi, alla fine, perché ci serve? Dunque, cominciamo dalla prima domanda, dal cosa. Cos'è una blockchain decentralizzata? Innanzitutto, bisogna definire e capire. Avete visto uno zoologo che classifichi gli animali in base a quante zampecciano? Certo, ci sono i bipedi, i tripedi, i quadripedi, i centipedi. No, né dal colore che hanno. E perché no? Perché queste sono caratteristiche non essenziali. Perché alla fine gli animali, a differenza dei minerali, sono vivi e forse classificarli in base a come si riproducono e quindi danno la vita più significativo che non il colore della pelliccia. Benissimo. E allora, cos'è una blockchain decentralizzata? Spesso i regolatori e altri dicono, beh, si misura dal numero di utenti. Più utenti c'hai, più sei decentralizzato. Beh, se fossi un imperatore con milioni di sudditi, sono forse meno decentralizzato? No. Oppure dal numero di nodi? No. E perché no? Per lo stesso motivo di prima. Queste non sono caratteristiche essenziali. Allora, cos'è che è essenziale? Essenziale nella blockchain è scegliere il prossimo blocco. Perché? I blocchi consistono di tutte le transazioni che sono avvenute. Se non stando in blockchain non sono mai avvenute. E se fossi io a scegliere il prossimo blocco, dico, queste transazioni verranno scritte nel mondo e queste altre non mi piacciono e le vogliono scrivere, avrei un potere più assoluto di quello di Luigi XIV. Quindi forse il monarca assoluto per eccellenza. Quindi, cominciamo a concentrarsi sul fatto che è la partecipazione alla generazione dei blocchi che rende decentralizzata una blockchain. Qualunque cosa avete visto e sentito, da ora in poi vi esorto a seguire questa pista. Benissimo. Avendo già una dritta su quella che è una blockchain decentralizzata, e come si fa a farla? Diciamo che non è facilissimo perché la blockchain è un prodotto squisitamente tecnologico e quindi senza tecnologia non si va poi da nessuna parte, almeno in blockchain. E perché è difficile? Perché fino a pochi mesi fa vigeva il famoso trilemma che diceva che se volete una blockchain dovete scegliere al più due di queste tre proprietà, la decentralizzazione, la sicurezza e la scalabilità. Immaginiamoci che disastro se questo fosse vero, perché io sono blockchain by design, voi siete un cliente e dice benvenuto a blockchain by design. Volete una blockchain? Certo, ve ne do una proprio per voi insicura. No, veramente mi servirebbe una sicura. Allora ve ne do una non scalabile. No, mica mi serve per giocare con parenti amici. Io voglio una cosa scalabile. E alla fine, chi servifichiamo? Bingo, la decentralizzazione. E infatti, fortunatamente è stato così, ma in questo trilemma è falso. La verità è appunto che invece la grandissima maggioranza delle tecnologie blockchain non garantiscono la decentralizzazione. Qui ci sono varie tecnologie che voi avete sentito parlare, ne parleremo brevemente, proof of work, delegata proof of stake, di decentralizzazione non se ne parla, non se ne vede neanche l'ombra. Allora, vediamo perché. Proof of work. Questa è una grande idea, è la prima idea, tanto a di cappello, al signor o la signora Nakamoto o Inakamoto, non so quanti siano, i quali hanno inventato questo proof of work. Che consiste in questo? Guarda, non sono io a scegliere il posto del blocco, non sei neanche tu. Facciamo così. Generiamo un indovinello matematico difficilissimo. Il primo che lo risolve porta la soluzione e ha il diritto di attaccare il nuovo blockchain. però ha un sistema democratico. Benissimo. Purtroppo è estremamente lento perché per essere sicuri che non ci sono due soluzioni a pochi secondi l'uno dall'altro, questo indovinello deve essere così difficile che in quanti milioni di persone ci ruovano a risolverlo, ce ne deve essere uno ogni tanto, altrimenti non sappiamo nella blockchain, se la chain va di qua, la catena va di là, perché ci sarebbe una fork. È costoso perché a questo punto, non so se avete visto, fate Google miner, blockchain miner e troverete un'immagine di migliaia, 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 migliaia di computer super specializzati che servono solo a migliorare la probabilità che sia tu a scegliere il prossimo blocco. E il sistema è talmente costoso a che cosa succede quando le cose diventano troppo costose che ce ne sono uno, due, tre che se lo possono permettere. Per esempio la catena Bitcoin, forse la più famosa catena, è controllata da tre mining pool. Ora, ditemi voi, se una catena controllata da tre enti è centralizzata o decentralizzata. A me pare molto centralizzata. E se già non bastasse, l'inquinamento generato da tutti questi computer è pazzesco, questi consumano adesso, originariamente consumavano più energie elettrica del Liechtenstein, poi del Massachusetts, poi della Svizzera, insomma le cose crescono peggio così. Va bene, la prossima tecnologia, Delegated Proof of Stake. Semplicissimo. Infatti, voglio dire, quasi banale, scegliamo, vedete quelle 21 persone lì, non sono oneste? Sì che lo sembrano. E io credo anche che continueranno a essere oneste. Per cui diamo loro il mandato di scegliere il prossimo blocco per tutti noi. Grazie e arrivederci. Allora, diciamo, questo è... La Proof of Work partiva da un'idea, c'era questo indovinello che lo potevamo risolvere tutti e via, 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 alla fin fine è diventata centralizzata. Ma questa era decentralizzata, è centralizzata e rimarrà centralizzata per sempre perché non è il modo giusto di fare le cose. non voglio perdere tempo con altre altre proprietà, basti dire che tutti questi approcci partivano da una logica fasulla e la logica è questa. L'economia totale è sicura se la maggioranza di un pezzettino di questa economia è onesta. Cioè, scusa, non ho capito bene. E certo che non ho capito bene perché non ha senso. Cioè, immaginiamo, appunto, qui c'è tutta l'economia, vedete quel pezzettino lì? Sono quelli che se sono onesti tutto funziona altrimenti ce ne andiamo tutti in malora. E che sono questo pezzettino verde? Nella Proof of Work sono questi tre minatori, nelle Delegate Proof of Stake sono i 22 membri scelti chissà come, buona fortuna. E diciamo, questo qui non va bene. E allora, cosa c'è bisogno? Non bisogna disperare. Una volta che abbiamo inquadrato il problema io sono sempre ottimista sull'ingegno umano e poi in generale sulla tecnologia. E la tecnologia dice che dobbiamo semplicemente cambiare completamente l'approccio. Voltiamo pagina. Ed ecco invece questo che io credo che abbia le caratteristiche che vogliamo che è la Proof of Stake pura. Cosa vuol dire? Vuol dire questo che ci sono come voi sapete in Bitcoin ci sono questi tokens i famosi tokens ogni token ha lo stesso potere di generare un blocco. E diciamo tutti questi token queste monete però non stanno dove stanno? Stanno nel portafoglio pronte a essere spese investite nelle varie possibilità che ci dà la blockchain e se la maggioranza delle monete in tutto il sistema è in mani oneste il sistema è sicuro. Soffermiamoci sulla terza cosa. Cosa vuol dire? Vuol dire che non sono tre minatori che decidono se mi va io distruggo la blockchain. Dove essere la maggioranza di quelle che posseggono le monete nel sistema la maggioranza della economia debbono decidere di coalizzarsi coordinarselo con l'altro e spararsi sul piede per distruggere quella stessa economia di cui posseggono la maggioranza. Forse ci penseranno due volte prima di farlo. E diciamo la generazione dei blocchi come avviene? Semplicissimo la generazione di blocchi ogni blocco viene generato da un comitato. Chi sono questi membri di questo comitato? Si scelgono a caso mille monete queste monete scelte a caso apparterranno a qualcuno costoro sono i padroni i membri del nuovo comitato e quel comitato sceglierà un nuovo blocco e il prossimo blocco un altro comitato si scelgono altre mille monete a caso i possessori formano un comitato che genera il generale blocco. E una volta che sono scelto che devo fare? Se fossi scelto se una delle mie monete fosse scelta e io faccio parte del comitato devo mandare in rete un piccolo messaggio facile da calcolare. Va bene? Quindi questo qui è come si generano i blocchi però dico grazie Silvio di questa visione dall'alto della pura proof of stake ma chi è che sceglie questi benedetti comitati? Certo non io altrimenti sarebbe centralizzatissima la cosa nessuno li sceglie si autoscelgono dico come? Si autoscelgono questa forse è la peggiore idea che abbia mai sentito perché se io sono un disonesto mi posso autoscegliere certamente che mi scelgo per essere membro di questo comitato e scegliere questo blocco e anzi mi autoscelgo pure per il prossimo blocco e pensate che cosa faccio per induzione mi scelgo pure così per cui sto sempre a scegliere i blocchi però non così semplice cosa vuol dire autoscegliersi? Vuol dire che avete una bella slot machine criptografica ok questa famosa leva uno mette i soldi spinge la leva o vince o perde questa slot machine essendo criptografica non posso barare posso abbassare la leva una sola volta e posso vincere o perdere se vinco ottengo una prova un biglietto vincente una prova dalla mia vittoria dalla mia vincita e quindi cosa faccio? batto in rete ecco il mio biglietto vincente essendo una prova tutti la possono verificare ed ecco la mia opinione sul blocco super giù va così fatemi dire perché questo è decentralizzato perché giustamente ogni volta c'è una lotteria diversa voi abbassate vincere si perde ogni moneta fa la sua propria lotteria come se avesse una manina che abbassa la leva se voi possiedete più monete forse avete più possibilità di vincere di altri però e certamente sono mille monete sparse in tutto il mondo decentralizzato lo è più decentralizzato di così forse non si può perché è scalabile ma quanto tempo ci vuole ad abbassare questa leva? un microsecondo una volta abbassato lo ricordate? mandiamo in onda il biglietto vincente e la vostra opinione sul blocco quindi questo è facile da fare e adesso diciamo perché è super sicuro? supponiamo che io sia un personaggio tanto malevolo quanto potente posso corrompere istantaneamente mille persone in tutto il mondo proprio allo schioccare della mia vita chi voglio corrompere? i membri del comitato però c'è un problema e chi devo corrompere? perché voi state abbassando dalle vostre leve che ne so di voi chi ha vinto che ha perso? devo corrompere te o te o quest'altra signora a Shanghai io non ho nessuna idea però una volta che gli autoscelti quelli che hanno il biglietto vincente lo dicono ecco il mio biglietto vincente ecco la mia opinione sul blocco allora li conosco tutti e posso corromperli istantaneamente e però che ci ho fatto? quello che dovevano dire l'hanno già detto il loro biglietto vincente la loro opinione nel blocco si sta propagando viralmente nel network e non posso rimetterlo nella bottiglia né più né meno che il governo degli Stati Uniti o qualunque governo possa mettere nella bottiglia un messaggio di Wikileaks che pure si propaga viralmente quindi il sistema è sicuro perché inizialmente non so che corrompere e dopo è troppo tardi per corromperli quindi questo ci dà al di là della blockchain è uno strumento per poter davvero progredire in modo democratico in tutto il mondo mantenendo il mondo decentralizzato e diciamo come vedete questa trilemma famoso facendo le cose un pochettino poco ortodosse si riesce a ottenere quello che prima era considerato impossibile di cose impossibili nella vita ce ne sono fortunatamente ce ne sono molto poche perché spesso l'impossibile è soltanto è risolvibile ma perché la vogliamo questa blockchain decentralizzata perché la decentralizzazione è una fonte di sicurezza enorme perché più partecipanti ci sono al sistema più difficile è corrompere il sistema se è tutto centralizzato metto una bomba atomica su uno finito basta non c'è più la blockchain è sparita quando invece è talmente capillare che tutti quanti che hanno una possibilità nel mondo possono essere capaci di generare il blocco è difficile attaccare il sistema un altro motivo è che questo è un modo di dare non soltanto garantire la sicurezza della rete perché ricordiamoci che la blockchain è un gioco di comunicazione e questo protocollo di comunicazione si svolge su una rete l'internet quindi non soltanto uno può attaccare il protocollo ma anche all'antica tagliare fili e riprogrammare i routers e tutti i sistemi precedenti riprogrammando i routers o tagliando fili riuscivano a distruggere la sicurezza quando anche fossero tutti onesti quindi non è una buona cosa questa è una sicurezza ulteriore quella che vogliamo e poi come dicevo prima la decentralizzazione vera garantisce disintermediazione senza frodi e senza costi e quindi garantisce tutti abbiamo il desiderio di interoperare gli uni con gli altri di interagire se lo potessimo fare con sicurezza anche con le persone che non conosciamo mi sembra che sia un bel dono all'umanità questo dono viene dalla tecnologia io sono un tecnologo lo chiarisco però mi pare che la tecnologia sia profondamente umana da quando siamo scesi dagli alberi e abbiamo costruito il primo strumento viviamo meglio e siamo forse diventati più umani di quanto eravamo prima non toglie nulla all'umanese non toglie nulla è una è un'aggiunta e diciamo anche che specialmente nel mondo si rende molto più complicato molte tante delle nostre aspirazioni non tutte ma la misura in cui riusciamo a raggiungerle dipenderà dalla bontà delle tecnologie che siamo riusciti a costruire una cosa però come in tutto ci vuole tanto amore e tanta forza di volontà e però noi abbiamo qualcosa di meglio da fare di cercare di raggiungere le nostre aspirazioni io non credo per cui diciamo meritiamoci la nostra tecnologia e godiamoci a quanto più possiamo